Buongiorno a tutti, benvenuti, sono Alice Salvioni, studentessa e collaboratrice di JSBach.it, la società bacchiana italiana, che quest'anno sarà partner per l'edizione del 2021 del Festival Nota Senza Tempo di Sassari. Sono molto felice di invitarvi e di presentarvi questo secondo appuntamento dell'edizione del 2021, il concerto intitolato La musica inglese al tempo di Shakespeare. Concerto infatti interamente dedicato all'Inghilterra della cosiddetta Golden Age, o epoca elisabettiana, un periodo storico a cavallo tra Cinque e Seicento caratterizzato da un forte sviluppo delle arti e in particolare della disciplina musicale, a cui veniva dato infatti un ruolo e una funzione sempre maggiore nella quotidianità delle persone. Il concerto a cui assisteremo sarà caratterizzato da un alternarsi dei due principali generi compositivi dell'epoca, ossia quello strumentale e quello vocale. Verranno infatti eseguiti dei brani composti originariamente per il liuto, uno strumento molto diffuso e molto apprezzato nell'Inghilterra elisabettiana, eseguiti da Antonio Fresi nella trascrizione per chitarra. Brani di compositori molto noti come per esempio John Dolan, ma anche di compositori forse meno noti, ma comunque molto rappresentativi della loro epoca e quindi meritevoli di essere scoperti o riscoperti, come Francis Cutting e Francis Pilkington. In seguito verrà eseguita da parte dell'ansamblio vocale Pietro Allori, sotto la direzione di Alessio Bianca, la monumentale Messa a quattro voci di William Byrd e due brani vocali, uno sacro e uno profano di Thomas Tullis, quindi due tra i compositori più rappresentativi del rinascimento inglese. Io non posso dunque che augurarvi un buon ascolto e invitarvi calorosamente a questo secondo appuntamento dell'edizione del 2021 del Festival Notte Senza Tempo di Sassari. A presto! Grazie a tutti!